Usarla nei minimi particolari, nei dettagli, il percorso è assolutamente tracciato, vi divertirete. È piovuto in questi giorni parecchio e quindi troverete il pegorino e alcuni tratti con molto fango e con molta acqua e vi chiedo di usare la testa perché almeno ci divertiamo e nessuno ci fa male. Chi non ha mai fatto questo percorso si diverta ma soprattutto usi la testa. Ci vediamo a Montelecchia, vi ringrazio tutti e nuovamente un doppio grazie perché come diceva prima l'assessore Appiani stiamo facendo sport ma stiamo facendo del bene. Grazie a tutte le iscrizioni, a tutta la vostra generosità abbiamo raccolto 10.000 euro che la prossima settimana toleremo alle due onlus che abbiamo scelto quest'anno come destinatari dei progetti charity Apposport che consentirà ad una ragazza meno fortunata di noi colpita da minigite di tornare a fare il no board e anche al primagliuto onlus che si occupa e si sta occupando sul territorio di Monza dell'acquisto di un importante macchinario per la cura dei tumori per l'ospedale San Gerardo. Quindi doppiamente grazie, buon amore, ci vediamo con Montelecchia, ciao!